Ho messo sotto il titolo di Kierkegaard, sotto il nome di Kierkegaard, i due termini scelte e angoscia che sono un po' l'emblema dei temi di cui si occupò nella sua vita di scrittore, di pensatore. Direi pensatore ancora più che filosofo, non perché la sua riflessione non abbia la dignità della filosofia, ma perché Kierkegaard pensò sempre il proprio lavoro, che del resto fece in una maniera da grande dilettante, da scrittore libero che non aveva una professione vera e propria, scriveva fondamentalmente. Concepì sempre il suo lavoro non sotto la categoria della ricerca scientifica, non pensava alla filosofia o a quel che coltivava come a un lavoro sistematico di studio e di ricerca, ma piuttosto come a un lavoro di meditazione. Ecco qua, 1813-1855, è morto come vedete abbastanza giovane e le sue opere principali sono state pubblicate negli anni 43-44, sono quelle su cui ci fermeremo particolarmente nella nostra lezione di oggi. I temi del pensiero di Kierkegaard, dunque così piuttosto meditativo, esistenziale, nel senso proprio dell'autoriflessione, della consapevolizzazione, dell'accentuazione della drammaticità delle proprie scelte del contenuto della vita interiore in qualche modo, i titoli delle opere di Kierkegaard sono abbastanza significativi appunto di questa tendenza, di questa specie, di questo tipo speciale di pensiero che egli realizzò. Vi mostro alcuni dei titoli delle sue opere che tengo qua, uno anzi è stato pubblicato in italiano proprio in questi giorni. Ecco qua, vedete per esempio, è bello vederli perché sono titoli abbastanza emblematici del pensiero kierkegaardiano. Qui ci sono due opere di Kierkegaard, il concetto dell'angoscia e la malattia mortale, ovviamente il secondo non riguarda una malattia nel senso clinico della parola, potete immaginarlo. E l'altro che voglio mostrarvi che è uscito proprio in questi giorni in italiano, non era mai stato tradotto ancora, è questo intitolato Stadi sul cammino della vita pubblicato nei classici Rizzoli, un bel volumaccio che si può leggere anche a pezzi e boccone, non nel senso che non valga la pena di leggerlo tutto, ma nel senso che come anche un altro grande testo kierkegaardiano che è intitolato Out Out e che è circolato in italiano da molti anni, ma sempre di nuovo in edizioni parziali. Queste opere sono come, tranne il concetto dell'angoscia e la malattia mortale, sono come delle grandi raccolte di generi letterari diversi, dal diario alla lettera, al dialogo. In Out Out c'è persino una recensione di una commedia che si era recitata, che si era rappresentata per l'appunto in quegli anni. Dunque è una sorta di grande coacervo di meditazioni che non avendo una struttura molto sistematica possono anche non essere lette come un manuale o come un trattato, si può leggerne uno di questi saggi, uno di questi scritti per farsi un'idea di che cosa è la meditazione kierkegaardiana. Perché scelta e angoscia? Perché tutti questi titoli? Perché Kierkegaard appunto pensa all'esistenza soprattutto sotto il profilo della scelta individuale, del momento della scelta. Out Out è classicamente un termine che usiamo spesso anche in italiano per indicare un momento di scelta e di alternativa e il concetto dell'angoscia ha da fare con questo perché? Perché come vedrete se leggerete le pagine che ho raccolto poi nell'antologia che vengono dal concetto dell'angoscia in questa edizione che ho mostrato, quando si prende coscienza del carattere in qualche modo assoluto della libertà. Cioè è vero che le nostre alternative sono sempre tra possibilità concrete. Però al fondo di esse c'è una specie di sospensione generale della nostra esistenza in una situazione di libertà per cui possiamo in qualche modo sempre perderci completamente. Insomma un modo di vivere la libertà anche di fronte a scelte molto concrete è quello di sentirne, come si direbbe in linguaggio kirchegardiano il carattere abissale. Cioè la libertà è in qualche modo qualcosa che ci sospende, ci distacca, ci mette in una condizione di in qualche modo sempre di assolutezza. Non capita spesso nella vita di sentirsi in questa condizione, però in certi momenti della nostra esistenza si è pure di fronte a delle scelte che possono poi essere tra sposare una signorina piuttosto che un'altra oppure scegliere un mestiere piuttosto che un altro. Sentiamo però che siamo consegnati nelle nostre mani stesse e che di lì dipende poi il tutto della nostra vita successiva e questo è il carattere abissale della libertà su cui kirchegard insiste particolarmente e che può dar luogo a quella situazione angosciosa che appunto viene descritta nel concetto dell'angoscia. L'angoscia è un sentimento spiacevole ovviamente, uno che dice di essere angosciato per lo più non si rallegra di esserlo, però è anche il sentimento che ci dà di più la consapevolezza della nostra libertà. In fondo un altro tratto dell'esistenzialismo è proprio questo, di certo prendere la condizione umana, per esempio dell'essere libero, come condizione che suscita angoscia, che suscita preoccupazione radicale, ma accentuare il carattere positivo di questa. Se uno non sente angoscia c'è qualcuno che recentemente ha delle inchieste sulla felicità, diciamo lei è felice, dice ma sono mica stupido. Tutto sommato in qualche modo resta anche questo vero che certo l'angoscia è un sentimento spiacevole psicologicamente, tuttavia chi non provasse angoscia, chi non provasse mai questa sensazione di assolutezza, di totalità, di abissalità della propria libertà, non dico che dovrebbe farsi vedere dal medico, ma insomma almeno dal punto di vista degli esistenzialisti ha un'umanità relativamente più povera. E tutto questo è uno dei noccioli principali della tematica esistenzialistica. Leggerete nella vostra, nell'antologia dei testi che avete a disposizione, alcune pagine del concetto dell'angoscia che mostrano proprio questa questione. Però Out Out, che è un titolo di opera Kierkegaardiana, ci apre anche la prospettiva a ricordare altri temi fondamentali del pensiero di Kierkegaard che sono rimasti essenziali nell'esistenzialismo, e cioè l'idea dell'alternativa. La libertà è da un lato esperienza dell'abissalità e dell'angoscia, come abbiamo detto, ma dall'altro è anche continua esperienza di alternative concrete che dipendono da noi. La sua esperienza è quando si trova davanti a una scelta, sa che da quella scelta dipende la sua esistenza. Se questa scelta fosse una scelta soltanto apparente come vuole Hegel, questo sentimento di assolutezza e anche di angoscia davanti alla libertà assoluta di cui dispone sarebbe finto. Ma un pensiero che pretende di farmi credere che ciò che io esperisco come più vero di me è finto, devo sospettarne, forse qualcuno che vuole farmi fare delle cose che non voglio fare. E qui è un punto importante dell'esistenzialismo. Prendere sul serio l'esperienza interiore come qualcosa che non si può semplicemente mettere da parte, dicendo, è un'illusione, tu credi, ma... Questo era il difetto del legalismo dal punto di vista di Kierkegaard e questo rimane un tema costante dell'esistenzialismo anche novecentesco. L'accentuazione, diciamo, della verità, dell'esperienza interiore e della libertà contro ogni tentativo di includerla dentro orizzonti più vasti, magari più razionali, più confortanti, ma anche falsi, come se fossero, come vedremo, incontreremo a un certo punto i termini ideologie in una delle prossime elezioni e vedremo che anche questo forse fa parte della polemica contro l'ideologia.